Il Piemonte moderno è nato qui 273 anni fa ai 2.500 metri del Colle della Sietta, quando il 19 luglio del 1747 l'esercito austro-piemontese, dopo 5 ore di combattimenti, costrinse alla ritirata le truppe francesi, scongiurando un'invasione e ponendo le basi per l'allargamento dei confini della regione. La commemorazione dell'anniversario, che coincide anche con la 52esima edizione della Festa del Piemonte, organizzata dall'Association Festa dal Piemonte al Colle della Sietta, si è svolta sabato 11 luglio. Una commemorazione aperta dalla celebrazione della Santa Messa in Piemontese, ma senza la tradizionale ricostruzione della battaglia. Decisione sofferta ma inevitabile, viste le esigenze di distanziamento e di sicurezza sanitaria imposte dalle misure di contrasto al coronavirus. Quest'anno poi la festa avrebbe assunto un significato particolare. Nel 2020, infatti, la regione Piemonte celebra il suo cinquantesimo anno di istituzione, motivo in più per ricordare il valore storico e morale della ricorrenza. Abbiamo necessità poi di far valorizzare la nostra cultura a 360 gradi, non solo con attività specifiche ma anche con gesti e simbologie. La simbologia più grande è proprio il drappò, la nostra bandiera piemontese. Dobbiamo far conoscere a tutti i piemontesi l'alto valore e le motivazioni per cui è la formalizzazione della bandiera, dalla croce ai colori al Bindel, al Lambello che è all'interno della nostra bandiera e del nostro drappò. Noi dobbiamo tenere alta la bandiera del Piemonte, dobbiamo portare un messaggio che le istituzioni ci sono, dobbiamo ricordare tutti i morti che ci sono stati su questa terra, in queste montagne, dove così oggi è affascinante esserci, tanto era pericoloso in quegli anni. Da più di mezzo secolo la rievocazione della Sietta è occasione per valorizzare e tramandare un patrimonio di cultura e di tradizione, un impegno che oramai si tramanda di generazione in generazione. Venire su questo colle ormai da 50 anni vuol dire per me e per gli altri che sono granatieri un'emozione per la battaglia che c'è stata perché il Piemonte è riuscito a fermare il nemico ed avere le sue terre ancora oggi e io continuo quello che ha iniziato mio padre. Qui vediamo altri uniformi di altri reparti, granatieri del reggimento guardia e milizia, ognuno di questi abiti rappresenta soldati che combatterono qui alla battaglia della Sietta, quindi il nostro scopo qui non è solo quello di ricordare ma anche di aiutare il pubblico a vivere una giornata di ricostruzione, di storia vivente e avere un piccolo assaggio di quella che poteva essere una giornata passata alla Sietta 300 anni fa.